Il premio di Eresi Sareguitane è un premio dedicato non solo alle donne, ma per le donne e gli uomini e per tutte le persone di un'identità di genere, ma è dedicato a persone che, come le Eresi Sareguitane, in cui tutti voi uscite la storia e non me la vogliamo raccontare, hanno trattato la storia di questa città. Tutti gli appuntamenti saranno alle 19.30, si inizia domani, martedì 8 luglio, con Brunella Caputo, mercoledì sera alla volta di Anna Senatore, venerdì e sabato di Maurizio Pintore e Vincenzo Barra, prima della serata di gala del 7 luglio. Diciamo che gli incontri con gli scrittori seguono un po' la scia dell'Associazione Culturale Scriptorium che io presiedo. molti di questi libri, alcuni di questi libri, sono già stati presentati nell'ambito delle nostre rassegne. Le Mugliere Sareguitane Nero vi sono ricordate in eterno, quindi di conseguenza penso che ci toccherà lavorare tanto, tanto tanto per tutti i consigliari. Dopo la presentazione di ogni libro a partire dalle 21, l'area spettacolo, destinazione Comicità, 5 gli appuntamenti da martedì 2 a sabato 6. Il premio Mugliere Sareguitane Nero quest'anno sarà anche una rassegna di teatro con attori professionisti. Spazieremo dal Varietà alla Prosa al Cabaret con Vincenzo Merolla, Mariano Grillo, Rodolfo Fornari, Antonella Quaranta, Ettore Massa, Massimo Carrino e una serata musicale con Tommaso Fichele e Fabio Notari. Avremo la possibilità di degustare piatti tipici della cucina cilentana con un ristorante gourmet su quattro ruote che ogni sera preparerà una pietanza tipica con prodotti locali a chilometro zero.